Amici del Grillo Parlante, quest'oggi siamo in pieno centro nelle adiacenze dell'ospedale militare precisamente in via Pitagora, angolo via Pupino e ormai a Taranto le segnalazioni vengono fatte e rimangono lì ferme senza appunto che qualcuno si degni di intervenire. E' il caso, andiamo nello specifico, di questo scivolo passaggio per disabili che presenta proprio uno sprofondamento, come vedete, e che non ci si è degnati assolutamente di colmare. Anzi, alla meno peggio, è stato messo quello che era un rallentatore per la velocità e poi si è ostruito di fatto, si è interdetto il passaggio attraverso questa transenna. Transenna che io definisco apertis verbis, senza mezzi termini, la transenna della inciviltà, perché non è assolutamente possibile che ci troviamo dinanzi a uno scivolo per disabili, si è creata qui una buca per cui praticamente la carrozzella sprofonda nella buca e non riesce a risalire lungo lo scivolo, cosa si fa? Non si mette un po' di catrame giusto per parificare e consentire alla carrozzella di passare, ma si mette così un qualcosa di gomma sperando che serva a passare e poi vedendo che neanche questo è sufficiente si dice lavoro in corso, si mette la transenna alla faccia dei disabili. E questa si dice una città civile? Noi non stiamo chiedendo di costruire qui una fontana o chissà quale opera di valenza architettonica. Noi abbiamo chiesto e chiediamo all'assessore Spalluto, che si dice tanto sensibile alle problematiche dei disabili, di mettere giusto un po' di catrame. Costa tanto mettere del catrame? Ma forse costa di più tenere ferma questa transenna che potrebbe essere diversamente impiegata ed utilizzata e la presenza di questa transenna e la presenza di questo filo che isola la transenna, come dire, rende partecipe l'amministrazione. L'amministrazione in altre parole non può dire di non sapere perché dal momento che è venuta, gli uffici tecnici sono venuti e hanno messo la transenna evidentemente conoscevano il problema, ma pur conoscendo il problema non sono intervenuti. Questa si chiama al mio Paese omissione, perché è una omissione che un disabile non possa passare, non possa avere un minimo di ristoro, io dico così, già rispetto alle tante sventure che vive quotidianamente. Chiedo all'assessore Spalluto, ma quanto costerebbe mettere un po' di catrame? Il problema risale da almeno tre, quattro mesi. Prima che ci fosse la interruzione estiva, diciamo, e quindi prima che il grillo parlante riprendesse, io ero convinto che il problema sarebbe stato risolto. Dico, beh, almeno per l'estate si riuscirà a mettere un po' di catrame. Nulla di tutto questo. Il silenzio, e consentitemelo, il menefreghismo amministrativo nei confronti dei disabili che qui, purtroppo, non possono passare. Oltre alle sventure della vita, alle sventure sanitarie, le sventure amministrative. Meditate cittadini, meditate, meditate disabili, meditate. Devo fare un po' di catrame. Grazie.